Nelle complesse e talvolte drammatiche vicende dei popoli, il Signore risorto guidi i passi di chi cerca la giustizia e la pace e doni ai responsabili delle Nazioni il coraggio di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi. In questi tempi, in modo particolare, sostenga gli sforzi di quanti si adoperano attivamente per portare sollievo e conforto alla popolazione civile in Siria, la amata e martoriata Siria, vittima di una guerra che non cessa di seminare orrore e morte. Ed ieri l'ultimo ignobile attacco ai profughi in fuga che ha provocato numerosi morti e feriti.